Ciao, allora, sì, andremo nell'oceano pacifico, certamente noi guardiamo i pesci nell'acqua, d'accordo, andiamo. Ok, siamo in oceano pacifico, ciao pesce scorpione, ciao mammiferi, noi scopriamo la razza dei pesci, va bene, andiamo a controllare. Ok, bene, quello si chiama il pesce luna, ciao. Ciao a tutti, sono il pesce luna. Che piacere vederti. Grazie, possiamo cominciare allegra. Ok, facciamolo, i giornalisti, ok. Contro le stelle della bandiera americana, come la tua gonna, come la tua gomma. Si muovono gli eserciuti, qui c'è voglia di scappare, per trovare un po' di pace dove bisogna andare. Ti ricordi d'Albavera, ti ricordi d'Albavera, sarà un altro giorno in passato nel letto, con la bottiglia dell'acqua a fianco, il telefono stretto. Pesce scorpione, è stato divertente. Sì, è stato divertente. Lo so, pesce luna. Ci vediamo presto. Ciao ciao. Quando volete, tornate quando volete, giochiamo. Ok. A rivederci amici miei, ciao. Ciao Leopardo, sei un gattaccio. Ora devo attivare la coda lunga. Ehi, francolino, che fai? Ehi, francolino, che fai? Grazie.